Inga, giovane soggetto di cane corso, che manifesta aggressività interspecifica, in particolare nei confronti di chi invade lo spazio intimo del branco famiglia. In questo video vi mostriamo una sintesi del lavoro svolto che evidenziano i primi risultati. Buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!